Più che una degustazione di vino, quella pensata dagli organizzatori di Calici di Bacco a San Ferdinando di Puglia è una vera e propria festa. Momento di aggregazione e condivisione dei sapori della nostra terra, ascoltando musica e passeggiando tra i viali della villa comunale. Apparsa fin troppo piccola per le decine di migliaia di persone che sabato sera hanno scelto di affollarla. L'evento Calici di Bacco si rinnova migliorando se stesso. Lo dicono i numeri della serata, anche se un bilancio definitivo gli organizzatori lo faranno dopo aver tirato il fiato al termine di questa lunga corsa organizzativa. Lo testimoniano le presenze di stand e cantine che hanno scelto di condividere una serata nel segno della degustazione del buon vino. Lo racconta con una punta di orgoglio anche uno degli organizzatori di Calici di Bacco, Giuseppe Russo. Abbiamo posticipato di un paio di mesi per dare la possibilità a chi per lavoro, per studio e fuori di essere presente oggi e i fatti ci stanno dando ragione. Infatti c'è tanta gente che negli altri anni non aveva la possibilità di esserci. Si è aggiunta qualche cantina addirittura di frascati, molte cantine anche della zona cominciano ad avvicinarsi, forse anche incuriosite dall'evento e ciò non può che farci piacere. La festa è andata avanti sino a tardi e a sipario calato gli organizzatori hanno preso coscienza del fatto di aver realizzato un evento ancora più bello rispetto agli anni passati. Tante persone, tanti amici, tanti volti nuovi ma tutti, proprio tutti felici, allegri e spensierati scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook di Calici di Bacco. Sono loro ad aver decretato il successo della serata.